Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Atto vandalico la notte scorsa ai danni della cappella sul mare che si trova lungo la pista ciclabile di Giulianova nel tratto sud, a ridosso del camping Tam Tam. I gnoti hanno decapitato una delle due statuette che raffigurano Sampio. La scoperta è stata fatta dall'armatore Walter Squeo che risiede nel quartiere annunziata e che solitamente ama passeggiare da queste parti. Ha denunciato il fatto anche attraverso la sua pagina Facebook pubblicando le foto del gesto sacrilego. La piccola statua sarebbe stata sbattuta a terra con la volontà di decapitarla. Non sono stati toccati gli altri due simulacri, una copia simile a quella danneggiata di Sampio e la statua della Vergine Maria. Non si capisce bene perché sia stato compiuto questo gesto, tra le altre cose, luogo di preghiera da parte di persone che chiedono aiuto o una grazia per chi è in difficoltà, con piccole offerte o persino con dei voti. In passato qualcuno ha rubato i soldi, per la verità pochi spicci dalla cappella. C'è chi ha anche tentato di scardinare il cancello, sistemato a protezione, oggi chiuso con una catena e un lucchetto. La decapitazione della statua di Sampio resta un gesto deplorevole, sacrilego, volgare. Il simulacro è stato ora portato via con l'intenzione di poterlo riparare e sistemare di nuovo al suo posto. Sull'episodio, l'ipotesi più probabile è che si sia trattata di una bravata di pessimo gusto da parte di qualche adolescente del posto. La zona è anche frequentata da ragazzi che molto spesso si ritrovano in prossimità della foce del fiume Tordino. Evidentemente potrebbero aver deciso di movimentare la loro giornata danneggiando un luogo assai caro ai pescatori giuliesi, molti dei quali rivolgono una preghiera in questo punto prima di riprendere il mare.